Io ho fatto due spazi su di... ...di un piano. Che un piano gioco. L'ho viaggiato tantissimo. Mi è piaciuto che io posso muovere in un'altra maniera... Io mi sento come se non ci fosse un piano, non ci fosse un piano di me, non ci fosse un piano di me. E infatti... E ora accoggio. Poi da qui saliamo... Non è che devo fare i giri per me salendo. Poi da qui... Non scappare da me. Vieni verso di me. Vieni verso di me, non scappare da me. Qual è appunto il punto di contatto che si deve aprire? Grazie. Riscendiamo a terra. Non scappare da me. Non scappare da me. Poi do qui. Non scappare da me. Non scappare da me. Penic Waiting сов. Eumen rischio. Vol Grazie a tutti.